Tristano per me è una cosa bella, a me piace sempre, l'abbiamo fatto ormai decine e decine di volte, però a me piace molto, sia come struttura che come linguaggio, poi c'è l'intervento del buffone che è una parte importante, che di solito il buffone ormai è lasciato, noi abbiamo fatto rivivere un po' con questa figura che tutte le compagnie praticamente hanno lasciato perdere, se non la compagnia di Asta che aveva un bravissimo buffone fino a qualche anno fa, poi adesso non c'è più, comunque secondo me il buffone è un personaggio molto importante, qua c'è proprio una funzione scenica, oltre al commento che fa per sottolineare le varie vicende, ha proprio una ragione scenica in quanto a un certo punto è lui che accompagna Isolta da Re Artù e lo va a dire e poi ha remato, l'ho accompagnata io, quindi è proprio una funzione anche nella vicenda, non solo il fatto di fare la chiacchiera col pubblico, di fare la battuta o scena o meno, insomma divertente, ironica, ma ha anche una funzione importante.